con il natale in arrivo ho deciso di proporvi diversi dolci quelli che vanno per la maggiore sono la soluzione perfetta per un piccolo pensiero da regalare ad amici e pareti oggi voglio iniziare con il beginho sono dei dolcetti brasiliani a base di latte condensato e cocco sono facili e veloci da preparare senza forno sono proprio squisiti gli ingredienti per questa ricetta sono una lattina di latte condensato da 397 grammi 40 grammi di farina di cocco 30 grammi di burro per decorare utilizzano farina di cocco quanto basta più di garofano quanto basta pirottini di carta ho imburato leggermente un pentolino antiaderente verso il latte condensato aggiungo la farina di cocco e il burro lascio cuocere a fuoco medio mescolando continuamente con un cucchiaio di legno fino a quando il composto si addensa e si stacchi dalle pareti ho tolto da fuoco il pentolino verso in una ciocola leggermente imburata lascio raffreddare completamente con le mani leggermente unte d'olio prendo un pochino di impasto circa 25 grammi formo una pallina passo nel cocco grattugiato e metto nel pirottino di carta guardisco con un chiodo di garofano vi ricordo che il chiodo di garofano serve solo per la decorazione deve essere rimosso prima di mangiarlo questi vigino sono proprio delicati e deliziosi il cocco stuzzica all'infinito le mie papille questi dolcetti sono come le ciliegie uno viene l'altro ah dimenticavo i vigino vanno riposti in frigo fino al momento dell'utilizzo noi come sempre ci vediamo prestissimo ciao